vuoi farci vedere ho costruito una cosa veramente figa costruito al bagno ci sono assolutamente 10 addosso mi sono scordato che sono i miei box e subito a comprare il mio nuovo libro che ha per uscito il librerie su amazon e link in descrizione ma soprattutto se lo compri su amazon se lo compri liberi di attaccami su instagram così che appunto posso ripostarti vieni qua ok si è la pesce che ti sembrava costruito io questo non è brutta stiamo sotto la scuola fa schifo ho costruito qualcosa di veramente più carino e brai privato ok ma sta sul modo non è privato lontano d'occhi discredi allora secondo me un buon lavoro veramente fatto di una piscina per i boys esatto puoi diventare un boys con la z alla fine ovvero un maschio degli frz team devi iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche altrimenti non sei un boys ma sicuramente un maschio ahahah ok perfetto ah è pure ingrassata questa zona parlare di poi ci sono ragazze cose da boys quindi avete studiato no no è uscito il nuovo game pass ci sono un sacco di giochi all'interno tipo ci sono un sacco di cose che stanno uscendo nell' xbox game pass si ma la mia frota esatto ecco ma rangen根ia ciao 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 state facendo questa è la zona dei voi se non potete mica stare qua e poi da qualche parte è già scritto non lo vedete no sentite un attimo voi siete donne emancipate tutto andate via e vi fatta una vostra zona per le ragazze noi parliamo di cose da maschi poi invece dovete parlare di cose da ragazzi tipo come le barbie le super chicche insomma guarda in che casetta vi siete chiusi intanto non sono contenta di questa cosa voglio dire una cosa prima di guardare la mia direzione se volete essere una delle girls con la z finale dovete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche mi raccomando così fate parte leggeri frz come team lo sapete benissimo viva team boys che team girls vabbè comunque in ogni caso per se per no team friends comunque esatto esatto sì sì noi noi faccio accettiamo tutti e anche i non binary comunque allora sono anzi no che giorno e oggi non mi guardare l'orologio acquaglio è tardi gruppo domani c'è una verifica ma avete studiato avere una verifica quella di storia no ero troppo impegnato a leggermi dragon ball io copio da gruppo se non studia bene non posso copiare andiamo raga ma davvero state andando deve studiare se lui non sto io lo devo incentivare a studiare perché se non posso copiare ciao sbri ma che cosa cavolo mi hanno lasciato qua da solo sono l'unico ad aver studiato chi è che studia allora ci sono non capisco aspetta stanno facendo dei corsi perché state bu non lo so non ho più paura di idea comunque ah vabbè intanto io non lo studiare mi metto qua nell'angolo bello a riposo ma ti metto qua oh che bello così almeno sto bello per i fatti c'è qualcuno c'è nessuno ragazze se andate via senza di me ma c'è una piscinetta dentro che carino uno secondo il troppo bellina c'è nessuno lì dentro c'è c'è qualcuno non lo vedo non lo vedo non lo vedo non lo vedo dolcetta che cacchio ci fai qua cosa cosa vuoi e ma sono venuta a fare il bagnetto qui no 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 col cavolo non puoi venire a fare il bagnetto qua dolcetta perché no è la zona dei boys questa è la zona dei boys ma guarda non c'è nessuno dove sono i boys eh i boys se ne sono andati a studiare purtroppo sono l'unico boys però se vuoi la zona delle girls è da quella parte no no io starei conto a fare il bagnetto no 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 senti un attimo ok questa è la zona dei boys e tu la stai contaminando quindi via via di andare nella zona delle girls della zona delle girls via 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 senti sono serio su questo ok la zona dei boys non si non si non si non si vai 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 nella zona sempre dritto antipatico sbrizer sempre quella parte sì ah sì ok no perfetto ottimo per sicurezza andiamo a vedere un attimo è davvero andando nella zona delle girls ok va bene vedo che stanno facendo e stanno costruendo forse ma adesso ci pensano dopo un po va bene sentiamo un po cosa hanno da dire ehi un po un po di stucco qui che c'è un buco ma perché c'è un salmone ma che 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 c'è un salmone levati ma e ma e ma e ma questi pesci che non servono e ce lo mangiamo quindi questo qua dobbiamo fare a forno sì sì lo facciamo a forno stasera con questo ci mangiamo in dieci cosa mi sta dando le codate sulla faccia mi sta dando le codate sulla faccia quella è la mia cena cosa ti fa qua dogetta ok va bene dogetta eh sì che si fa qui eh ma ero venuta a fare il bagno però c'è la re dei boys e quindi mi hanno cacciato cioè sbrizer mi ha cacciato via quindi sono andata voi cosa ti ha cacciata via sì ma io non ho capito questa cosa cattivo io non ho capito perché sono un puzza no forse forse non hai usato abbastanza di adorante no si vede eh ma veramente però guarda io proverei a riandare dai ragazzi magari potrebbero accettarti no 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 non ci devono accettare ci è un obbligo noi dobbiamo occupare quella zona è più bella della nostra ragazzi dai guardate l'intorno si facciamo una guerra oh no ci prenderemo il loro fortino andiamo già da appropriare del fortino no 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 voglio andarsene di appropriare del fortino no 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 non occupate quella casetta ragazzi aiuto Quello è il nostro Axelot della morte Fermi Fermi tutte un attimo Fermi Che state facendo Elox mi rovinerà Bene non ci importa Doveva farci entrare prima Doveva diventarsi prima Prima di gacciarci Ma non è giusto Io mi denunzio Beh tanto Voi fate tutte le strafighe no Ma in realtà non sapete Che io ho un asso nella manica Dove sta? Ma non ho Ti piace? Eh vabbè ci sia posto per un'altra persona Beh mi dispiace Ma questa è mia Ma che piace? Ma c'è una piccola Quella mia Che sta volando Proprio così Donne Ah ah Sono nelle nuvole Ah ah I boys vincono sempre Se io non potrò Adesso come scendo No cacchio L'ho perso Per sbagliare Ho premuto il tasto sbagliato Ok Devo chiamare Elox E gli devo dire Quello che è successo ti è pronto è l'ox e studiando no io no gruppo sto studiando anche mello comunque è prestato il portino dei boys ecco non hanno presa loro non ci voglio credo ma porca miseria violet del cacchio comunque non è praticamente ragazzi sono assediate hanno rotto tutto forse cosa e hanno rotto il mio portino e prendi il lanciarozzi prendilo e basta non venire non venire vedi che c'è ancora più strada e poi non hai il tempo di di arrivare delle ragazze tranquillo ci mettevo poco ad arrivare ma che cacchio ci fate voi qua ma state studiando qua ma siete stupidi comunque no 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 state scherzando assolutamente no ragazzi sono sempre delle ragazze non potete sono le girls dove sono andate scappate saranno nella loro zona delle quella lì nella fiaggia o cacchio perché io l'ho detto facciano volare ragazzi ragazzi prendete le vostre armi ce n'è un'altra le vostre armi quali armi avete eccola ma che cosa è rimasta l'ultimo ma ne stai decimando così vai gruppo prendila ragazzi non credo che allora sono credito aver esagerato uccidendo le no niente anzi ti dirò di più ho anche ordinato una bomba nucleare da piazzare sotto questa piscina adesso l'agae Grazie a tutti.